L'incoscienza del ragazzino andavo a vedere i tedeschi che sparavano, i cari armati che passavano, guardavano gli aerei quando sganciavano le bobbe. Dico, eccolo, eccolo, l'ha sganciato. Succedono tutte queste cose. Era triste. Però per quanto riguardava a me era pure un divertimento. Solo che dispiaceva quando sentivo i genitori che piognevano, le donne che urlavano. La domani alla domani alla domani alla domani allah. Si sgrasca i genitori che sgaccordano, i peli spettatori che si portavano i genitori. i genitori, i genitori che sgotano i genitori. I per il compagno di usare i genitori. Grazie.